Non ho ben chiaro il video di oggi, devo essere onesto, ci sono alcune cose da dire, vediamo come sarò in grado di dirle. Parto dalla più importante, cioè che oggi finalmente vedremo all'opera la Juventus di Tiago Motta, per la prima volta. Sono veramente emozionato e quindi vi do appuntamento per seguire insieme questo appuntamento, vi do appuntamento per seguire insieme questo appuntamento, questo evento insieme su Twitch. Ci vediamo verso le 4 e mezza sul mio canale, dove guarderemo insieme la partita, faremo una live reaction e poi ci trasferiremo qui su YouTube per tutti i contenuti che solitamente facciamo nel post partita, anche se non ci saranno per dire le pagelle, dato che stiamo parlando di amichevoli eccetera eccetera. Se volete facciamo due parole sulle prestazioni dei calciatori, ma non nella stessa maniera che utilizziamo per le pagelle invece durante la stagione. Quelli arriveranno con anche una grafica tutta nuova, l'importante è avere la rosa al completo, poi vedremo come organizzare tutti i calciatori all'interno della nuova grafica. Però signori, oggi finalmente vedremo all'opera la Juventus di Tiago Motta. Voglio sapere quanti come me sono gasati ed entusiasti, ma soprattutto curiosi di vedere quello che succederà e anche di capire quella che sarà la prima formazione. Vi devo, per dire, vedete, lo sapevo che non sapevo come sarebbe avuto questo video. Si parla di Cabal titolare a sinistra e Cambiaso a destra. La butto lì. E noi ci siamo sempre detti che i terzini di Tiago Motta invece erano dei terzini che spingevano poco, che venivano dentro al campo e robe del genere. Invece sia Cabal che Cambiaso sono dei giocatori che prendono molto l'ampiezza. Cambiaso a volte entra dentro il campo, sì, però sono due terzini puri, veri, non sono magari dei difensori centrali adattati a terzini. E quindi vediamo, quindi vediamo, perché si sta già lavorando su qualcosa di differente a seconda di quelli che sono i calciatori che si è ritrovato Tiago Motta alla Juve, anche se sui terzini è sempre meglio stendere un velo pietoso per la Juve, perché siamo molto molto indietro. Ieri abbiamo parlato delle cessioni di Uisen e di Sulet, e queste due cessioni faranno in modo che la Juventus, se giuntoli, potranno poi concentrarsi appieno su quelle che sono le trattative principali in entrata. E cioè stiamo parlando di Kopp, Mainers e di Todiboh. Abbiamo già parlato tanto di questi due calciatori. Sappiamo quelli che sono le formule, sappiamo quelli che sono gli interessi, le volontà della Juventus. Su Todiboh vi ho già portato anche la presentazione del calciatore. Su Kopp, Mainers ancora no, non c'è l'analisi. Ve la porterò a breve, anche se Kopp, Mainers lo conosciamo abbastanza bene. Ma c'è anche un altro giocatore di cui vorrò fare analisi e ne parleremo dopo. Però ovviamente per questi due calciatori significa che la Juventus sta cercando di investire dei capitali seri, dei capitali importanti. Sta cercando di fare delle operazioni, da un certo punto di vista, impegnative. Ovviamente ragionando sull'ambito finanziario, economico, di bilancio. Quindi non so poi successivamente quanto margine di manovra avrà ancora la Juve. Cioè, Sule e Eusen erano da cedere perché Todiboh e Kopp, Mainers dovevano arrivare. Questo è quanto. E quindi probabilmente la Juve ha anche accettato qualcosa nemmeno rispetto alle prisioni iniziali per andare a chiudere quei due calciatori. Questo lo sappiamo. E quindi io sì, Todiboh e Kopp, Mainers, mi aspetto che possano diventare tematiche importanti e calde già la prossima settimana quando anche la Juventus tornerà in Italia, dato che dopo l'amichevole domani torneranno tutti a Torino. Il problema è un altro, che finché poi non andiamo a cedere altri giocatori, secondo me non ci sarà trippa per gatti per altri ingressi. Almeno ingressi economicamente impattanti. Ci sono due voci di mercato che nelle ultime ore sono emerse a proposito di alcuni giocatori della Juventus. Giocatori di quelli che sono etichettati come in uscita. Stiamo parlando di Federico Chiesi e Weston McKennie. Una è un'operazione, quella per McKennie, italiana, una pista italiana, perché la Fiorentina sarebbe interessata a McKennie. E allora io qui mi domando, ma davvero McKennie avrebbe rifiutato la Premier League che in una squadra in cui avrebbe giocato pure la Champions League per andare a giocare a Firenze? Per l'amor di Dio, progetto entusiasmante, meraviglioso, Palladino, un allenatore emergente in un certo livello, anche stimolante a giocare con Palladino. Però quello che non comprendo, quello che non capisco è la Fiorentina non potrà dare lo stesso palcoscenico, cioè Serie A contro Premier, e non gioca la Champions, e non potrà dare nemmeno lo stesso ingaggio. Quindi ci sarà sì l'interesse della Fiorentina, però io la vedo dura, che poi questo interesse possa concretizzarsi. Fatico a crederci. Vedremo cosa succederà, ma fatico a crederci. L'altro, invece, è Federico Chiesa, e si sta parlando di una pista estera, cioè il Tottenham. Ecco, io chieso al Tottenham lo vedrei molto bene. È proprio la tipologia di calciatore che il Tottenham, secondo me, avrebbe piacere ad avere il rosa. E quindi qui potrei capire, e chissà, che magari dalla Premier non possa arrivare un'offerta, anche di poco, magari superiore a quei 25 milioni di cui si è parlato per Federico Chiesa. La Juventus, secondo me, da 25 milioni in su lo lascia partire. Poi sappiamo che in Premier hanno anche questa voglia di spendere un po' più soldi del previsto, e se si riescono ad intortare, chissà, l'ultima volta che abbiamo fatto affari col Tottenham, quindi con Luzeschi e Bentancur, siamo stati soddisfatti dal punto di vista economico, e sono state due cessioni che hanno permesso di affondare per Blauvic. Quindi vedremo se si svilupperà questa pista legata a Federico Chiesa. Ieri Tiago Motta ha parlato durante l'allenamento, non ho fatto un video alla conferenza stampa di Tiago Motta, perché è stato veramente cinque minuti sbrigativi, con il vento nei microfoni di Tiago Motta, che non ha detto niente di che, però un passaggio in particolare è stato importante, perché dice Chiesa, per il momento è un calciatore a Juventus, poi vedremo. Al momento, oggi, in questo istante, poi chissà, e secondo me lì si è lasciato sfuggire un po' un'indicazione, ce n'era bisogno? Secondo me no, però della volontà della Juventus di cedere Federico Chiesa. Chissà che la pista Premier League non possa essere quella giusta per ricavare un'accessione che in questo momento sembra abbastanza distante, anche perché la Roma si era interessata a Federico Chiesa, e poi andate su Le. ha preferito aggiungere qualche soldino in più, probabilmente provare a puntare su Le piuttosto che Chiesa. Però sappiamo anche che la Juventus poi dovrà fare degli ingressi. Sugli esterni, siccome si è messi molto male in questo momento, c'è di healing, ve l'ho già fatto questo discorso, ma ve lo rifaccio, c'è di healing, c'è di su Le, c'è di Chiesa, e bisogna metterne dentro, non c'è tripa per i gatti. Abbiamo parlato di Sancio, ma Sancio è un po' che non si sente nominare. Probabilmente l'idea della Juventus era prenderlo in prestito, a un prezzo di saldo, a un prezzo di favore. Non ci sono sviluppi? Non lo so, se ne sta parlando veramente poco. Ci sono altre priorità? Me lo auguro, perché Sancio è un nome che mi piace, un nome che mi ispira, un nome sul quale punterei tanto, sul quale ho fiducia, mi piacerebbe, dato che è un'occasione di mercato. Ieri abbiamo parlato di Adeyemi, che a me piace come giocatore, però vi ho anche detto che deve essere un giocatore che arriva a determinate condizioni economiche, perché nelle ultime ore si sta parlando di una Juve veramente molto dentro all'interesse per Adeyemi, ma col Borussia Dortmund che lo valuta tra i 40 e i 45 milioni di euro, che per l'amor di Dio è loro interesse farlo. Questo è un mantra che mi porterò avanti per tutto il mercato. Ogni società fa benissimo a chiedere quei soldi lì. Però poi vi dico, la Juventus, che in questo momento sta preparando il colpo Todiboh, preparando il colpo Cobb-Mainers, e ha già comunque investito i capitali su Turan, su Douglas Lewis, su Di Gregorio, anche se sono prestiti, anche se sono pagabili in più opzioni, eccetera, eccetera. Avrà anche la possibilità di mettere sul piatto 40-45 milioni per Adeyemi, e che sarà solo un esterno, e poi ce ne saranno altri da andare a prendere, perché non puoi prenderne solo uno, per me no, e sinceramente, per quanto io apprezzo il profilo di Adeyemi, per 40-45 milioni di euro, andrei avanti, andrei su un profilo, su un altro tipo di profilo, Adeyemi è un giocatore secondo me molto interessante, ma non so neanche se lo vedo come titolare inamovibile e fisso, anche perché comunque è un giocatore che si può giocare a destra e a sinistra, però preferisce partire da sinistra, forse andrebbe a pestarsi anche un po' ai piedi con Ildis, o nel caso sarebbe più un 4-1-4-1 con Adeyemi e Ildis, che partono entrambi da sinistra, non lo so, non ho idea, bisognerà vedere, è un giocatore che a me piace, però lo prenderei per essere un più uno sui titolari e non ha quelle cifre lì, Borussia fa benissimo a chiedere quei soldi, la Juve poi, secondo me, farebbe bene a dire, ok, grazie, ci siamo informati, pensavamo meno, andiamo su un altro tipo di profilo. si è parlato anche di Ndoie, che è un giocatore che già all'europeo si è messo bene in mostra, e che comunque, quest'anno con Tiago Motta ha fatto molto molto bene, è stato un titolare inamovibile, ecco, io credo che sia quella la tipologia di esterni che vuole Tiago Motta, e secondo me, sia Chiesa che Sule, potevano essere adatti, Chiesa si voleva vendere, sull'e si voleva monetizzare, che è diverso, Chiesa per un discorso contrattuale, sull'e per un discorso economico, quindi poi la Juve deve tornare sul mercato per forza di cose, a me non fa piacerissimo, ma ve l'ho già spiegato, cedere sia Chiesa che sull'e per poi andare sul mercato a prendere altre esterni, che magari ti fanno pagare anche di più, però sono curioso di vedere qual è la strategia di Giuntoli, perché si stanno facendo veramente tante, tante operazioni in uscita, e queste operazioni in uscita dovranno essere bilanciate, le operazioni in ingresso, ma per il momento sono più curioso di vedere quella che sarà, Juventus di oggi, che giocherà in uno stadio pieno, pieno di persone, quindi ci sarà già anche un po' l'atmosfera da grande pubblico, del pubblico delle grandi occasioni, e noi ci gusteremo insieme la partita, questo pomeriggio, giocano le 17, noi ci vediamo un po' prima su Twitch, ciao!